Andiamo a casa a mangiare? Andiamo. Buongiorno a tutti, chiedici. E cari amiche, dal vostro carissimo amico Aurora e dal vostro carissimo amico Giacomo, oggi, primo maggio 2023, voi sono qui. Buongiorno a tutti. Come sentite, le campane sono della chiesa del Santissimo Redentore. E' questa struttura che vedete qua, alla mia destra, è l'asilo della scuola elementare, la chiesa materna, San Giovanni Pozzo. Come è stato trascorso la domenica, noi bene, grazie. Stamattina siamo usciti verso le sette dieci e ora tra poco ci ritiriamo. La domenica deve fare l'attiva prezzi. Dai andiamo, andiamo a casa. Senti, ma tu che devi fare, più tardi devi venire. No, perché io mi ne esci su... no, 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 io mi ne esci su... no. Croccantino con chiesa del Piatino e Carota. E poi, durante la giornata, c'è Carota e Torso. per mantenere un giro, gol, è in forma. Dai, andiamo di qua, guarda qui. Vediamo se possiamo attraversare. Attraversiamo. Tra poco siamo arrivati. Siamo arrivati a casa. Ci troviamo via, via Don Bosco. Oggi qui da noi, a Marte di Libertà, ci si vedono poche persone. Ci siamo arrivati a casa. Ci siamo arrivati a casa. Ci sono arrivati a casa. Siamo alle porte delle strade, per chi piace il caldo, per chi piace le strade, è viva, è viva. Questa strada, via un'aspedale nuovaia. In questo condominio, abita la chitanzetta di Borja. Vediamo da questa parte, in ruolo, pieni, andiamo di conto. Iscrivetevi al canale di Borja, Borja e Limpone. Condividete il video, seguite il sito e mettete il like. Buona giornata a tutti, buona volta. Come? 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 Sappria, via, via. Grazie a tutti.